buongiorno ragazzi buongiorno buonasera in base all'ora in cui vedrete questo video allora la situazione è sempre la stessa passano le domeniche quei due punti rimangono per la partita col bologna rimane sempre la nostra condanna e ormai le speranze si stanno stanno diminuendo di giornata in giornata però a questo punto dopo aver guffato dopo aver cercato in tutti i modi di tifare contro il Milan dopo aver cercato in ogni modo di sperare in un passo falso non ci resta non ci resta che fare una cosa non ci resta che fare i complimenti ai nostri avversari allora parliamo parliamoci chiaro io non gli faccio i complimenti per lo scudetto perché mi potrebbe potrebbe sembrare potrebbe sembrare una guffata io però ci tengo a fare i complimenti al Milan per quello che ha fatto per quello che ha fatto fino adesso e ve lo dico non da allora non voglio con questa con questi complimenti apparire stucchevole apparire bonista apparire poco interista o eccessivamente sportivo ma faccio i complimenti da realista da persona realista perché effettivamente dopo quello che abbiamo visto quest'anno non si può non dire che il Milan abbia fatto un mezzo un mezzo miracolo indipendentemente da come vada a finire indipendentemente da come vada a finire il Milan ha fatto un mezzo miracolo e questo va ammesso va ammesso perché perché purtroppo nella mentalità italiana è insita l'abitudine di denigrare di denigrare i successi i successi altrui ad ogni costo un denigrare animato fondamentalmente da una da una profonda invidia ma questo non capita solamente nel calcio capita anche nella vita di tutti i giorni se voi notate appena uno fa un minimo di soldi subito è sicuramente ha rubato sicuramente ha fatto qualcosa di illegale se una due belle tette è sicuramente se le ha rifatte sicuramente se le rifatte ce le avrei anch'io se avessi 7 mila euro da buttare da dare al chirurgo se uno ha un bel culo è beh ragazzi ce l'avrei anch'io se passassi le mie giornate le mie giornate in palestra e questo purtroppo e questo purtroppo questo atteggiamento becero e invidioso si riflette si riflette purtroppo anche anche nel mondo del calcio anche nel mondo del calcio perché se voi fate un minimo escursus su quello che è successo negli ultimi due anni vedrete che questa teoria che questa tesi dell'invidia becera è stata applicata in varie in varie occasioni se voi notate l'anno scorso noi abbiamo vinto lo scudetto ma secondo la gente noi abbiamo vinto lo scudetto perché abbiamo vinto lo scudetto perché perché la juve si è suicidata prendendo prendendo pirlo quindi il merito non è nostro ma è solamente un demerito della juve quest'anno quest'anno il milan se vince se vince lo scudetto è solamente grazie a noi cioè solamente grazie al fatto che l'inter si è suicidato solamente grazie al fatto che l'inter non ha fatto l'inter e si è suicidata ha perso delle partite che non doveva perdere e via e via discorrendo stesso discorso vale per la roma stesso discorso vale per la roma la roma è in finale di conference league solo ed esclusivamente perché hanno fatto una coppetta giusto per murigno allora a questo punto però bisogna andare a vedere la realtà dei fatti perché se noi continuiamo continuiamo a vedere il mondo con gli occhi dell'invidia purtroppo nessuno sarà mai stato bravo nel fare qualcosa nessuno avrà mai meritato di vincere qualcosa o nessuno nessuno avrà mai meritato di ottenere qualsiasi tipo di successo perché se noi andiamo ad analizzare allora noi l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché perché eravamo i migliori perché avevamo l'allenatore migliore perché avevamo l'attaccante migliore e perché avevamo due palle così due palle così il milan quest'anno se vincerà lo scudetto lo farà perché perché ha un allenatore che si è rivelato molto meno sega di quello che tutti noi pensavamo che ha dei giocatori che si sono rilevati molto meno scarsi di quello che noi pensavamo e soprattutto perché ha vinto una quantità di sconti diretti allucinante quindi quindi noi noi che non siamo mai riusciti a battere il milan in campionato quest'anno dobbiamo solo ed esclusivamente riconoscere che il milan quest'anno è stato più bravo di noi e qua non si tratta ripeto di essere sportivi non si tratta di essere leccaculi non si tratta di essere buonisti si tratta semplicemente di essere realisti per quanto riguarda il discorso roma stesso identico discorso alla faccia della coppetta questi sono andati in norvegia si sono fatti umiliare si sono tirati sulle maniche e sono riusciti ad arrivare in finale col sacrificio con la voglia e con due palle allucinanti derivate probabilmente dalla mentalità del proprio allenatore quindi per concludere il video io mi complimento con con il milan spero ancora spero ancora che possa incappare in qualche passo falso anche se la vedo la vedo veramente veramente complicata per quanto riguarda noi stesso discorso io non ho nulla da rimproverare all'inter di quest'anno nulla nulla siamo riusciti ad arrivare agli ottavi di champions e siamo usciti con liverpool siamo riusciti ad arrivare in finale di coppa italia abbiamo vinto la super coppa e ci stiamo giocando lo scudetto fino all'ultima giornata criticare in zaghi non mi sembra giusto criticare in zaghi significa significa voler cercare a tutti i costi voler cercare a tutti i costi un colpevole semplicemente semplicemente non ci sono colpevoli la stagione dell'inter è stata una stagione non ottima ma molto buona quella del milan è stata una stagione ottima punto e basta nulla da criticare alla mia inter l'unica cosa è che nella vita purtroppo ogni tanto si trova qualcuno più bravo di noi arrivederci